un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuto al consueto appuntamento con Piana Stampa della segna stampa di inquieto notizie oggi mercoledì 29 maggio cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola addio a Fabiana lacrime e rabbia la sedicenne uccise a Corigliano la ministra idem ha fatto visita ai genitori poi nel pomeriggio i funerali grandissima la commozione il GIP ha convalidato il fermo del 17enne che si è avvalso della facoltà di non rispondere in alto una buona notizia per il porto di Gioia Tauro record di movimenti è sempre in alto della nuova bomba in strada danni a sei auto Gioia Tauro diritto Priolo i sei indagati restano in carcere ci sono quindi ben tre notizie in prima pagina da approfondire che riguardano il nostro territorio andiamo subito a pagina 20 2 il porto di Gioia Tauro stritola i record in 20 ore oltre 8000 movimenti dato registrato sabato scorso l'amministratore delegato della med center che gestisce lo scalo calabrese Bagalà dice siamo contenti del risultato ma è necessario rimanere concentrati ancora gazzetta del sud bomba sulla strada danneggiate sei auto e due abitazioni della nuova ordigno ad alto potenziale una bomba in piena notte palmi la bellezza è sospesa nel vuoto il monte Sant'Elie è l'emblema dell'abbandono ma anche la tornare è trascurata e il Miami è sempre lì palmi quindi l'effetto mare monte è incantevole ma sulla vocazione turistica di questo luogo baciato dalla natura pesano colpevoli disattenzioni dopo decenni di parole è la somma che fa il totale totale questa è l'intera pagina dedicata al comune di palmi cambiamo decisamente argomento e torniamo a parlare del relsito delle amministrative seminara il piccolo miracolo le lacrime di Angela Lombardo la vettoria elettorale del candidato sindaco che ha rotto il dualismo buon amico Gioffre una donna per la prima volta rappresenterà in consiglio la frazione Sant'Anna Gioia e Rizzo si rivolge a Scopelliti in segno di ritore chiuso i sindacati chiedono subito un incontro Polistena comuni senza isole ecologiche sommersi dai rifiuti e ancora Polistena confronto sulle sfide energetiche spicca l'invenzione di uno studente presenterà in Norvegia il suo generatore eolico città nuova l'Africa della povertà e terre d'Indrangheta che possono rinascere due progetti dell'istituto Chitti e a Palmi le favole stimolano i bambini e conservano il valore educativo iniziativa dell'associazione Artemisia sostenuta dal comune Ancora Palmi, nuovo ospedale della Piana, via libera, la selezione dell'impresa la stazione unica appaltante ha spedito le lettere alle ditte invitate a partecipare alla gara entro agosto le offerte a settembre la scelta della commissione Gioia Tauro, omicidio di Giuseppe Apriolo i sei indagati restano in carcere sullo sfondo del delitto uno scontro tra due famiglie il Tribunale del Reesame ha respinto i ricorsi di conseguenza restano in carcere Giuseppe, Antonio e Vincenzo Brandimarte Davide Gentile, Antonio e Santo Rottura Rosarno, Droga e Revocati ammanno gli arresti domiciliari è finito nella rete dei carabinieri Palmi, ipotesi di truffa si costituisce battaglia l'accusato di recettazione nell'ambito dell'inchiesta non solo moda garantire le cure rispetto alla persona il malato non è un numero il vescovo al meeting di Cairos San Pertinando, indennità ai dipendenti nota di fuoco del RSU Tarrianova, poliambulatorio vietato a disabili e anziani la struttura senza ascensore da tre mesi nel vuoto gli appelli all'azienda sanitaria provinciale e passiamo alle pagine del quotidiano della Calabria che titola in migliaia per l'addio a Fabiana il caso è ricordato in occasione del voto alla Camera sull'atto di indirizzo sulle violenze di genere dolore e rabbia ai funerali della sedicenne uccisa e bruciata dal fidanzato inserato una fiaccolata e palloncini rossi per la giovane al corteo funebre delegazione di studenti e associazioni convalidato l'offermo dell'omicidio ora in carcere a Catanzaro andiamo all'interno del quotidiano alla ricerca di notizie che riguardano il nostro territorio la prima la troviamo a pagina 19 delitto priolo restano in carcere i sei accusati di concorso nuovo record per MCT al porto di gioia oltre 13.000 Tios movimentati in meno di 20 ore il mega hub in controtendenza rispetto al mercato ladri a Torianova sottratti i proventi del meeting nazionale della legalità derubati i fondi raccolti iniziativa dedicata a Fabrizio Pioli e Toni Battaglia Cinque Frondi riscopre il suo volto avviato dall'associazione culturale di rinascita nel progetto laboratorio Borgo Futuro vieste il paio del bacce riapre il tratto di strada in pietra antica che porta al cimitero si punta a bonificare dietro le mura non solo Moda Massimo Battaglia si costituisce e ora ai domiciliari e a Polistena no allo smantellamento del reparto di medicina il sindaco Tripodi tuona contro le passarelle di Scopelliti e Squillaciotti e dice difendiamo l'ospedale di Polistena SOS rifiuti si bussa alla regione i sindacati insorgono e chiedono un incontro urgente dopo la scadenza del contratto con Ecologia Oggi Rizzo Uiltrasporti dice gestione effimera a danno di lavoratori e collettività Butterfly House a Città Nova Museo Vivente delle Farfalle e a Santiofemia i negozi adottano un'aiola sinergie tra comune e commercianti a Santiofemia da Spromonte Rizziconi comuni di immondizia lungo le strade situazioni insostenibili al centro come in periferia e a Polistena in difficoltà anche a Polistena la differenziata non basta più il sindaco anche gli enti virtuosi senza alternativa anche oggi abbiamo avuto problemi con la copia digitale di Calabriora per cui termina qui la nostra edizione di Piana Stampa che torna domattina alle 8.30 come sempre subito dopo il caffè a voi tutti da Luggero di No l'augurio di una buona giornata All right, baby